Sindaco, quali auguri si sente di formulare per questo Natale 2015 alla cittadinanza? Dando un felicissimo Natale in famiglia, di serenità e per tutti quanti un buon fine anno, ma soprattutto che l'anno nuovo porti delle novità per il futuro, che finalmente incominciamo a intravedere quella luce che ci consenta di poter sperare in un futuro migliore. Ci lasciamo dietro un 2015 che forse è tra i periodi più bui della storia di Gela, ma Gela come al solito è sempre riuscita a trovare il meglio nei suoi figli proprio nei momenti più bui. Quindi a tutti quanti un buon Natale, un felice anno nuovo, ma soprattutto un radioso 2016. Sindaco, la nascita di Gesù ha una carica evocativa molto forte, rappresenta anche il rinnovamento. Se lei potesse rinnovare radicalmente un settore di questa città, su che cosa opererebbe? Non esiste un settore, non voglio fare lo stesso errore che è stato fatto 50 anni fa, Gela ha tantissime potenzialità, dall'agricoltura al turismo, al mare, dove ha sempre avuto le sue più grandi ricchezze. Quindi non esiste una sola ricetta, ma come i buoni piatti è formata da tante parti che messe insieme sicuramente potranno dare quello che servirà alla nostra città.